E inizia la diretta Facebook dell'inaugurazione della Fiera del Rosario 2017. Fabrizio Cibillo, speaker. Il sindaco Andresce Rezer. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, vicino al presidente Biascon Conformercio Angelo Falotta. I bersaglieri e il gonfalone della città di Sant'Ona di Piave. Ecco qua, il consigliere regionale Francesca Zottis. Il sottosegretario Pierpaolo Barretta. Il senatore Mario Dallatorre. Vedo il movimento dietro, sta arrivando il governatore Lugazzaia. Sta arrivando il governatore Lugazzaia. Eccolo qua. Grazie. 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 La luce per la diretta non è delle migliori, ma ecco qua. Il governatore Lugazzaia. Il governatore Lugazzaia. Hai ragione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. È iniziata la fiera campionale del Rosario 2017. Grazie. Grazie. grazie